La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna stampa di Uno TV. Quest'oggi sabato 18 gennaio apriremo come di consueto le prime pagine dei vari quotidiani regionali e poi daremo uno sguardo nella seconda parte a quello che accadrà questo pomeriggio e domani per quanto riguarda l'universo del calcio. Ma partiamo dalla prima pagina del mattino di Napoli e andiamo a vedere come titola il quotidiano partenopeo questa mattina. Un quotidiano che apre con la vicenda delle due ragazze rapite e che sono state liberate. Greta e Vanessa, sempre a volto scoperto, sono passate di mano almeno cinque volte. Le due cooperanti ricostruiscono i sei mesi di prigionia in procura. Gentiloni, il pagamento solo in lazioni. Intanto le inchieste del mattino, la beffa asilinido, addio fondi al sud, i deputati meridionari assenti al voto. A centro pagina, qui scendiamo, andiamo a vedere cosa è accaduto nella direzione nazionale del Partito Democratico. Si parla della prossima elezione del capo dello Stato, colpa nostra di Cerenzi se c'è il caos. Alla direzione, messaggi del segretario ai Democrat e a Berlusconi. Intanto è uscito quest'oggi il libro su Pino Daniele, il libro cult, torna in edicola. E infine in taglio basso leggiamo lo sport con la chiusura, si va verso la chiusura dell'inchiesta per quanto riguarda il caso sulla Coppa America. Mentre la Costner viene squalificata per amore, niente gare per 16 mesi colpevole di aver coperto il fidanzato Alex Schwarzer al momento di un controllo antidoping. E' questa di fatto la prima pagina del mattino, andiamo a leggere anche la prima pagina del mattino di Salerno, ovvero la pagina dedicata al capoluogo di provincia che apre con la vicenda dell'isochimica. L'amianto uccide ancora, 8 anni dell'azienda Irpina, muore un operario di Pastena, di agnosi, era mesotelioma, scusate, è la seconda vittima salernitana dei valiani respirati nello stabilimento chiuso e sotto inchiesta. Intanto leggiamo, come al lato sinistro della prima pagina, l'intervista del mattino al Presidente della Regione Stefano Caldoro, il quale dice che nel PD risse da ring e zero proposte il Governatore, la candidatura, non ho nulla da annunciare. E continuiamo con la politica, le primarie più lontane, l'Ida di De Luca per quanto riguarda il Partito Democratico. De Luca che ieri è stato ospite nel Vallo di Diano e in particolare a Teggiano e a Sala Consilina. A centropagina leggiamo Olimpia di 2024, c'è il progetto di Salerno, su spunta la costiera amalfitana nella candidatura del CONI, la vela tra Amalfi e Positano. Andiamo a leggere il taglio basso dedicato ai corsi, l'alexio di eloquenza dell'Avvocato Proietti. E' questo un corso di formazione che per avvocati sulla deontologia, che non è un'arte, ma che di artistico ha una eloquente presenza, quella di Gigi Proietti, ospite dell'Avvocati e prof per un giorno, l'artista romano. Dunque si spoglie dalla divisa, quella del maresciallo Rocca, una delle sue interpretazioni per fare lezioni di dialettica, alle toghe. E chi più di Proietti, artista nato come cantante e poi diventato un pezzo da 90, della varietà, prima e poi dopo del teatro, potrebbe essere titolato a parlare di comunicazione e eloquenza. Lui che anche in fatto di deontologia non ha pari nel suo settore, dove le regole forse sono più complicate di quelle dell'Avvocatura. E' questa, di fatti, la prima pagina del mattino di Salerno. Andiamo a leggere cosa titolano invece oggi la città di Salerno, il quotidiano salernitano che apre con la vicenda dell'Amianto, uccide un altro operaio, Carmelo Jacobelli, morto a 55 anni, aveva lavorato nell'isochimica sei mesi fa alla scoperta della malattia. La rabbia del fratello è stato un incubo, contaminati 80 addetti salernitani. Di spalla, leggiamo in città, arruggi, risonanze KO, esami vietati ai pazienti, rotte traffici, ora traccano le navi giganti, il porto accelera, la sicurezza, il capo dei vigili, potenzieremo tutti i controlli. Mentre a centro pagina leggiamo primarie, via libera di Renzi, in campo anche migliore, Cozzolino non faccio passi indietro, l'analisi, il PD Campano, cinque mesi di scontri e strategie. Intanto a Cava dei Tirreni, boom di richieste per le cremazioni. E vediamo nella foto al centro invece il Papa Francesco Cilento, un resort di lusso sulla collina di San Francesco, un resort di lusso potrebbe sorgere presto sulla collina di San Marco ad Agropoli, a pochi passi dal monumento al poverello di Assisi San Francesco. Sarà denominato Blu Mare Resort ed ospiterà un centro benessere ed estetico su una superficie di 8.500 metri quadri circa. Leggiamo infine in basso, in taglio basso, lo sport come di consueto per quanto riguarda la città di Salerno. Salernetana si blocca Perulli, contrattura al polpaccio, Outcol Martina rientra intanto Bomber Mendicino. E questa è la prima pagina della città di Salerno, ma proseguiamo e leggiamo la prima pagina di Cronache del Salernitano. Anche qui si parla della morte dovuta ad Amianto, dell'operaio dell'ex isochimica Amianto Killer, Tito Acronache, deceduto Carmine Jacobelli, 56 anni, detto Portobello, uno storico tifoso della Salernitana, ha lavorato all'isochimica ma il suo nome era stato escluso dalla procura delle parti offesi. Le sue condizioni si erano aggravate a partire dal mese di ottobre dello scorso anno e deceduto ieri all'ospedale Ruggi. Intanto a Salerno, e parliamo e cambiamo pagina, sono stati chiesti per l'omicidio persico 100 anni di galera, 27 anni solo al killer Alberto Volpicella, mentre per quanto riguarda la politica, Cossolino fa il pieno, De Luca attacca, entrambi aprono a migliore per le primarie, Di Lello vuole provarci, mentre sui funerali intanto di Nicola Crisci, l'avvocato e sindaco di Agropoli a 21 anni, ieri i funerali, figura storica del mondo forense, è stato sindaco di Agropoli a solo 21 anni, il più giovane di Italia. Intanto leggiamo sempre quando riguarda la politica, Davide Bruno fuori dal partito, stiamo parlando di Battipaglia, il PD nella bufera, dopo l'arresto di guerra per Camorra, e infine vediamo a lato, a Sarno l'arte golosa, Mancuso va all'Expo 2015, e infine a Roccapiemonte arrestato o presidente era latitante. Questa è la prima pagina di cronache del Salaritano, ma proseguiamo e leggiamo, la prima pagina di Metropolis, Metropolis che oggi apre con una notizia diversa, ovvero scoperto un falso avvocato, tenta di truffare una settantenne di scafati, chiedendole di pagare il presunto debito del figlio, una vicina di casa dell'anziana ha messo in fuga l'uomo l'auto individuata intanto dai carabinieri. A Salerno, delitto persico, il PM chiede un secolo ai killer, a centropagine invece primaria, migliore candidato, De Luca Buffonata, ad Angri fitta immobili sequestrati, preso Fontanella, mentre a Battipaglia, messa cancellata, insorgono i fedeli, infine nella zona dei Picentini del Sele, donne picchiate e vessate, arrestate due persone. Per quanto riguarda sempre Salerno e Irno, amianto letale in fabbrica, ha morto un altro operaio, ha scafati lo strazio delle due città, addio a Jenny e Mimmo, ha i salesiani in centinaia per la 36enne, mentre gli scafatesi in lacrime per Attanasio. E infine vediamo lo sport di Metropolis, Menichini d'azzardo, giù il poker di punte, ma per Rulli si fa male, le caprò paganese con il rebus rivoluzione, a Reggio la prima senza bighe. Infine in Serie D la battipagliese via la nuova era, che avvesse invece vigilia da altri tempi. Questa è la prima pagina di Metropolis, prima di congedarci, leggiamo alcune notizie interne che riprendiamo soprattutto dal mattino e leggiamo questa notizia interessante dell'inchiesta del mattino, ovvero l'asilo nidio e sud assente il nord. Compie lo scippo, sì, del Parlamento, ai fabbisogni zero, asse tra PD e Movimento 5 Stelle, lo leggiamo un po' nel dettaglio. Sono bastati 5 minuti, dalle 8.15 alle 8.20, per chiudere la partita sui fabbisogni di Esilinido, confermando i tagli al mezzogiorno e l'errore tecnico grave, di cui aveva parlato il sottosegretario Graziano Del Rio. Non è stata una decisione affrettata, infatti una discussione molto approfondita, come risulta dai verbali delle sedute di dicembre. Su un tema così delicato, per gli equilibri territoriali, sono intervenuti nel confronto due di Varese, uno di Modena, due di Belluno, due di Ravenna, uno di Alessandria e uno di Torino, per un totale di nove rappresentanti eletti al nord, mentre tutti e cinque parlamentari dell'Italia meridionale, i membri della bicamerale sono risultati assenti o almeno taciturni. La decisione della bicamerale epocale, dal via ufficiale all'attuazione della Costituzione del 2001, sarà attuata dal riparto delle risorse del 2015, con i fabbisogni standard, i singoli comuni non saranno più assegnati in base alla spesa storica, ma tenendo conto con la maggiore precisione possibile dei reali fabbisogni della popolazione per tutti i servizi gestiti dai comuni stessi. Tuttavia, i fabbisogni standard sono infatti una grande passo avanti per il controllo della spesa e della qualità dei servizi, ma si è inciampato in un errore. Infatti, i tecnici hanno deciso di calcolare il fabbisogno misurando i bisogni reali per tutti i servizi, tranne per l'istruzione e l'asilo nido. Difatti, si è assegnato quindi un clamoroso fabbisogno zero di asili nido a città popolose come Catanzaro, Giuliano, Pozzuoli, Casuale, Portici, San Giorgio, Cremano, Ercolano, perché invece dei bambini si sono contati gli asili nido esistenti che in tali città semplicemente non ci sono. Il risultato di tali scelte è che non saranno riconosciuti 700 milioni di anni di fabbisogno reale nel mezzogiorno, ripartendole invece tra i comuni del nord. Il problema, e qui il tema più importante, non era da togliere asili nido a Bologna per darli a Napoli, come pure si era detto nel dibattito, ma semplicemente assegnare alla popolazione di Napoli e di Bologna il giusto peso. Cosa che in realtà non è stato fatto, leggiamo anche più avanti, nel giorno del dibattito più approfondito. In audizione della bicamerale c'erano uno dei componenti della Copaf, Ernesto Longobardi, combinazione anche lui nato a Belluno. È stata fatta una scelta di Chiara, ma d'altra parte mi chiedo cosa si possa fare. Possiamo dare soldi per l'asilo nido che usa Bologna o Reggio Emilia a Napoli. Difatti però quello che emerge è che in questo contesto vi è stata l'assenza dei deputati parlamentari del Sud che non erano presenti in questa votazione decisiva. E sono questi coloro i quali noi andiamo a votare. Intanto leggiamo anche, per concludere, alcune parole dette dal Presidente Caldoro in un'intervista rilasciata al mattino e ci soffermiamo su alcuni spunti interessanti. La sua personale visione su quanto sta accadendo nel Partito Democratico e diciamo vorrei sapere, avverto un forte rammarico, dice Caldoro, mi piacerebbe avere un confronto sulle idee, sui programmi, sulle proposte. Vorrei sapere cosa ne pensa il PD sulla riforma delle regioni, che progetto di sviluppo ha della Campania, ma non riesco a trovare una traccia, non vedo una proposta di governo alternativa. Intanto sui candidati dice tranne la saggese, aggiunge Caldoro, gli altri tre contendenti sono stati protagonisti di una stagione politica, chi da dentro, ricoprendo incariche amministrative, chi come puntello, e penso a Rifondazione, che sosteneva le giunte, i governi di centro-sinistra. Vedo che tutti e tre, Cozzolino, De Luca e Migliore, difendono la stagione che va dal 2000 al 2010, dicono che bisogna tornare a quegli anni, a quello spirito, alle esperienze dell'ex presidente della regione, dell'ex sindaco di Napoli. In sostanza, si viene chiesto a Caldoro, vede un PD con lo sguardo troppo rivolto all'indietro, credo, anzi ne sono convinto, e lo dicono i fatti. prosegue poi l'intervista con le idee della possibile, diciamo, idea di una rissa, in questa rissa dei ring, si chiede a Caldoro, come lei la definisce, c'è uno dei contendenti migliori che accusa i suoi avversari di fare accordi con pezzi di Forza Italia, sono chiacchiere, alle quali non do alcuna importanza, risponde Caldoro. Sulla possibile ricandidatura, leggiamo, il mio dovere, aggiunge Caldoro, è governare fino all'ultimo giorno del mandato, non devo annunciare nulla, né ho mai anteposto le mie ambizioni personali agli interessi della regione, c'è la brutta abitudine di pensare alle candidature come una partita che si gioca nelle stanze chiuse dei partiti. E queste sono le parole del Presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, con le sue parole ci lasciamo e chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte. Seconda parte della rassegna stampa di sabato 17 gennaio e continuiamo a leggere le notizie relative al Vallo di Diano, spostandoci nelle pagine interne di Cronache del Salernitano che aprono quest'oggi con la vicenda del distretto sanitario, distretto resta sala, solo guerra dei poveri. Parla il Sindaco Cavallone sulla sede sanitaria 72 nell'ex tribunale, altri nove sindacati contrari allo spostamento a Sant'Arsenio. Sala potrebbe aver vinto la guerra per il trasferimento del distretto sanitario con il Comune di Sant'Arsenio. Lo si è compreso questo pomeriggio quando il Attare ha rinviato l'udienza sulla querella tra Sala Consilina e l'ASL al prossimo 25 giugno in merito al trasferimento degli uffici a Sant'Arsenio. Un rinvio deciso dopo la richiesta in Comune di Comune Accordo tra il Comune capofila del Vallo di Diano e l'azienda sanitaria locale guidata da Antonio Squillante. Un rinvio chiesto all'unisono in vista della definitiva e della definizione dell'accordo tra i due enti ormai in essere dopo il riavvicinamento dei giorni scorsi l'udienza fa fede l'accordo tra i due comuni lo leggiamo in questo trafiletto l'udienza relativa alla querella è stata rinviata fa fede l'accordo tra il Comune capofila del Vallo di Diano e il direttore generale Squillante. Sempre a sala però scoppia il caro rifiuti e c'è un attacco del gruppo positivo mentre a Teggiano c'è anche la città della principessa Costanza tra quelle delle opere incompiute solo in Campania ci sarebbero opere incompiute per 14 milioni di euro tra le quali il completamento di Piazza Pecori e dell'impianto sportivo Marino Biagio di Ottati e la sistemazione e modernamento dell'aviopista del Vallo di Diano a Teggiano sono 693 le opere incompiute in Italia per le quali sono già stati spesi oltre 3 miliardi di euro ma per completarle ne servirebbe un altro miliardo e mezzo è partito da qui il convegno dedicato alle opere incompiute in Italia organizzato dal Ministero delle Infrastrutture dalla Conferenza della Regione e dall'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Contabilità Ambientale durante il convegno ospitato dalla città dello Sport di Roma progettato dall'architetto Santiago Calatrava una delle opere incompiute più ambiziosi e mastodontiche nelle intenzioni è diventata invece il simbolo degli sprechi e della disorganizzazione tutta italiana scendiamo in basso e andiamo a vedere a Vibonati quello che sta accadendo sul centro Juventus mamme sindaci contro da squillante per il centro Juventus ieri sera la riunione operativa degli amministratori dell'ambito S9 aggiorni l'incontro con il manager dell'As e infine le notizie in breve le leggiamo qui in basso a Teggiano Enrico Letta ospite della giornata diocesana del migrante mentre continuiamo a leggere Sassano il laboratorio Think Thank per lo sviluppo e l'occupazione e infine a Sala Consilina vendevano profumi contraffatti una denuncia e quattro fogli di via d'allarma queste le notizie principali relative al territorio del Vallo di Diano adesso spostiamoci e parliamo di sport di calcio soprattutto con le partite in programma questo pomeriggio tra oggi e domani in primo piano per quanto riguarda il mattino c'è il Napoli un Napoli atteso dallo scontro diretto per la Champions League contro la Lazio e il mattino titola lo spareggio Napoli e il Lazio spettacolo tutte le vie portano al gol con 33 reti in 18 partite sono le squadre più prolifiche dopo la capolista Juventus all'Olimpico arbitrerà il mondiale Rizzoli l'arbitro designato scelto il numero 1 quello che ha diretto la finale mondiale di luglio tra Argentina e Germania la prima volta che arbitrerà il Napoli in questa stagione leggendo un po' i numeri gli azzurri le punte di Benitez ne hanno segnati ben 29 con una media altissima mentre i capitolini segnano gli uomini del reparto centrale Mauri Bomber a quota 7 reti questo diciamo è quanto ci racconta il mattino sempre il mattino ci parla invece della Salernitana con una squadra quella Granata che è alla ricerca di punti per ritornare ad occupare il primo posto ci sarà questo pomeriggio questo fine settimana l'impegno contro il Martina ed è caccia al gol con i Granata che cercano nuovi gol per Rulli intanto alza bandiera bianca per un problema al polpaccio Gabionetto invece giocherà con Mendicino mentre per quanto riguarda il mercato Salerno chiama sirene inglesi per il bomber Sanì e infine c'è anche lo spazio dedicato alla Paganese con Sottil non cambia modulo Tridente con Longo e Melcore niente scossoni dalla rivoluzione di gennaio l'allenatore conferma lo schema con due esterni ai lati di Girardi nonostante le cessioni di Herrera e Caccavallo William invece non è ancora al top debutta l'attaccante del Bari queste le notizie relative a Salernitana e Paganese andiamo avanti e leggiamo quello che sarà il weekend calcistico dei campionati dilettantistici regionali a partire dal campionato di eccellenza che vedrà impegnato oggi pomeriggio il Valdiano di Mister Tudisco in casa del Sant'Antonio Abate e c'è anche una sfida interessante in ottica salvezza quello del tra Real Ponte Cagnano e Forza e Coraggio Benevento terza giornata di ritorno del campionato di eccellenza con quattro anticipi a iniziare da oggi ci sarà Real Vico Palmese Sant'Antonio Abate e Valdiano Real Ponte Cagnano Forza e Coraggio infine Nocerina sarà in trasferta alla Cerulli di Massa Lubrense domani il resto del programma con Campagna Sant'Agnello e Clanese Faiano il big match tra Cagnano e Scafatese che vale la vetta della classifica e infine Vissariano Mariglianese nel girone D invece terza giornata con cinque anticipi Cilento e Bolitano intercasali Real Bellizzi Real Aversano Poseidon mentre Poseidon Temerari domani Olympique Salerno Volcei alle 11 piccola Real Agropoli mentre il Sassano ospita il Real Stella in prima categoria c'è stata una rivoluzione la vedremo soprattutto negli approfondimenti che dedicheremo all'interno del nostro telegiornale oggi si gioca la 14esima giornata del girone F G ed H nel girone H è stata definitivamente sancita l'esclusione del Vallo Scalo e si gioca anche in seconda categoria e in terza con gli anticipi del turno di campionato che ve ne renderemo conto come detto all'interno del nostro notiziale e poi nel consueto approfondimento di lunedì con Sport1 TV la rassegna stampa prosegue leggendo quelle che sono le ipotesi relative alle Olimpiadi di Roma 2024 e in ballo un progetto che vede coinvolta anche la città di Salerno per quanto riguarda le competizioni di vela e lo leggiamo all'interno del mattino Roma 2024 progetto Salerno la vela tra Amalfi e Positano sarebbe l'ultima tentazione del presidente del CONI la proposta arriverà a metà febbraio intanto prima di chiudere la nostra rassegna stampa diamo come di consueto la lettura della Nuova del Sud il quotidiano della Basilicata anche oggi che è arrivato nella nostra redazione e ci fa capire cosa sta succedendo per quanto riguarda la regione vicino a noi e in primo piano leggiamo per quanto riguarda la questione terrorismo l'ultimo stagio dei terroristi a origini di vaglio il tipografo francese sequestrato dai fratelli Cuachi intanto donna morta al San Carlo il reesame su Marraudino ha tolto alla paziente la possibilità di sopravvivere e infine per l'icano verde i furti non ci faranno intimidire a centro pagina invece il quotidiano apre con la bagarre sui vitalizi di lusso ex consigliere in rivolta contro il taglio delle pensioni d'oro la minaccia della consulta la carrozza non ci sta e infine tavoli e servizi per sostenere Melfi e la Jeep Renegade vuole in Europa FC Asata l'impegno di Pittella si stringe per il campus tecnologico e infrastrutture via le selezioni per le prime 300 assunzioni venerdì regione in visita allo stabilimento a centro pagina reazione sbagliata ma servisse per aiutare i giovani e l'editoriale di Mimo Parrella e infine leggiamo sempre scorrendo verso il basso le altre notizie lavori a tempo rossa pedoni e agricoli restano senza strada busse e navette nei tassi paga la produzione di Benur Nemoli e Nonna Maddalena la prima centenaria del millennio infine il calcio il Matera punge le Vespe tre punti d'uolo contro la Juve Stabbia ieri si è giocato l'anticipo del campionato di Lega Pro Girone C quello della Saternitana e che ha visto proprio la vittoria della squadra di Auteri contro le Vespe e di fatti con la nuova del sud si chiude la rassegna stampa di sabato 17 gennaio vi rinvio ai nostri notiziari quello delle 13.45 e delle 19.45 gli ulteriori approfondimenti vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buona giornata